Provate a entrare nella testa di Roberta Calandra, autrice contemporanea e seriamente motivata. Vi siete mai preoccupati per la pace nel mondo? Questa non è solo possibile, ma è anche necessario. Organizzo tutto io, a modo mio. Yes, I can. Anch'io lavorerò per la pace nel mondo, per distrarmi blandamente dalla mia passione per i giovani virgulti di sesso maschile. Io ho votato alle primarie e lavorerò per la pace nel mondo, l'ha detto il mio analista mentre sorseggiavano Xanax. Sosteneteci, sostienici, sostienici. Se tieni alla pace nel mondo non puoi fare altro che sostenerci. Sosteneteci, mi raccomando, mi raccomando. Teatro Cometa Off, 6-8 maggio, la strategia del colibri. Ma dov'è il comandato? Ehi! Ehi!